Sono sorpreso che solo pochissimi modenesi sapessero che questa città custodisse un tesoro così grande che solo un furto portasse alla ribalta il valore di questa tela. Sono queste le parole del soprintendente per i beni artistici di Modena, Stefano Casciu, a una settimana dall'incredibile furto della tela del Guercino dalla chiesa di San Vincenzo. Allo stato attuale la storia dell'arte, il patrimonio culturale, ma anche la musica antica e la storia in genere sono banditi dalla didattica scolastica. Nelle scuole non si parla mai di questi aspetti. Noi non possiamo sostituirci al sistema didattico nazionale. E mentre continua la polemica sulla mancata protezione del quadro, il parroco Don Gianni Gerardi sottolinea di aver fatto tutto il necessario per proteggerlo. Il soprintendente, nella speranza che la tela possa essere ritrovata, vuole sottolineare che non sempre è facile combaciare le necessità di chi vuole proteggere i beni artistici e chi li custodisce nelle chiese e non vuole che vengano spostati in alcun modo. Ogni chiesa, quale più, quale meno, è un piccolo museo. È la sua caratteristica, la tipologia del patrimonio. L'idea è che si possa, in maniera un po' poliziesca, portare tutto, ignorando poi il fatto che sono anche luoghi di culto, che sono anche proprietà diverse. Questo insisto a dire che qui si tratta di una proprietà della parrocchia, che ferisce all'arcidiosi. Da qui a pensare che tutte le chiese vengano spogliate. Qualcuno, un tempo fa, in occasione del terremoto e del nostro lavoro di ritiro delle opere dopo le distruzioni nelle chiese, in maniera un po' polemica, mi aveva paragonato Napoleone perché questa idea di portare via le opere dalle chiese, nonostante il sisma e nonostante le grandi emergenze, è stata sentita da alcuni come un'azione invadente. Pensiamo se, in maniera analoga, avessimo deciso, ma no, noi, il Comune e altri istituti, una regolare asportazione e deportazione delle opere d'arte. Certo, ci sono tanti casi in cui questo può essere fatto, però pensarlo come soluzione al problema mi sembra un po' cessivo.